papà che se no, la buona papà andrei vai se ci metti un stappetto e un staggeppetto qui magari no allora adesso adesso a scherzi servite a tutti quanti Antonio Gelli e le due minucce invece le due ragazze qua Rita e Melissa io sono messo ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.